Borse caute preoccupate in Europa ma anche con un pizzico di cinismo. Cinismo perché le notizie di questi giorni che parlano di un'escalation della guerra nel Medio Oriente è ovvio che stanno preoccupando i mercati ma forse non poi così tanto perché vediamo anche oggi Piazza Fari chiude in ribasso ma con perdite limitate a pochi decimi, un meno 0,28% e la stessa cosa più o meno è avvenuta anche per gli altri listini europei anche Francoforte e Parigi sono qualche linea sotto la parità oggi. Evidentemente le preoccupazioni smaltite dallo shock iniziale sono rivolte ad altre cose da parte degli investitori e soprattutto anche a quei dati macroeconomici che infiammeranno questo finale di settimana. Ricordiamo che venerdì sono in programma i dati come ogni primo venerdì del mese i dati sull'occupazione negli Stati Uniti che sono sempre un market mover molto importante. Wall Street comunque procedeva almeno in avvio in leggero rialzo quindi anche qui una posizione più che alto di attesa. Tornando a Piazza Fari oggi è da ricordare, da segnalare la performance del titolo Pirelli soprattutto perché dopo la notizia dell'uscita dal capitale della società da parte di Brembo il titolo ha ceduto il 2,4% recuperando però sul finale quindi una notizia che il mercato ha sostanzialmente digerito anche perché c'è stato l'ingresso nel capitale, anzi l'aumento della partecipazione da parte di Canfi.